tutto fatto in italia tutto fatto in italia ma anche gli occhi suoi occhi miei ma è molto speciale quale cosa c'è di speciale su questo modello tutto fatto a mano ma sono timido no no tutto fatto a mano tutto fatto a mano componenti e materiali tutti italiani facciamo su ordinazione produrremo solo 20 unità di questa motocicletta ovviamente la vendiamo omologata per l'ospedale tutti i materiali nobili alluminio, titanio, chiusa di carbonio il telaio in acciaio con bagno d'oro 24 carati forcellone posteriore in alluminio pesa solo 4,5 kg con batteria al litio all'eterno motore Kawasaki per seguire la tradizione della Sigoni degli anni 70 il resto è tutto materiale italiano, Arro ci ha fatto gli scarichi apposta per noi OZ ci ha fatto i cerchi con nostra nodizzazione, piastre, pedane, radiatore, tutto fatto sul nostro disegno e quanto tempo ci va per comprarne una? Se la ordino oggi quanto tempo devo aspettare? 15 giugno, 15 giugno avrà la sua moto 15 giugno? Sì Ah va bene, allora non è tanto due mesi Sì due mesi E per oggi ci sono solo 20 pezzi 20 pezzi 20 pezzi, facciamo solo 20 pezzi Grazie mille Complimenti Grazie